Io non posso morire senza di lei. Sono passati secoli da quando io ho rinunciato alla vita per amore, il suo amore. Tipico esemplare antropologico moderno, la bella ragazza con bassa autostima. Comincia tu. Passa sui nostri corpi, in breve siete morti, sorge l'aurora e presto un raggio vi traffigerà. Un Dracula in qualche modo contemporaneo, un Dracula che in qualche modo legasse il passato e il presente. Non è la prima volta che mi capita di lavorare come musicista, ma devo dire che lui è, oltre che essere un musicista, veramente è una persona che ha un rapporto con la parola, che è un rapporto da poeta, ecco. Questo è molto stimolante. Noi! 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 Grazie.